Si parla di diversità e disagio mentale in Marilyn Agli Occhi Neri, il film di Simone Gudano che vede protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone. In uscita il 14 ottobre è stato presentato in anteprima mondiale al Bari International Film Festival nella sezione Anteprime Internazionali. Il giovane regista ha ottenuto la candidatura come miglior commedia in Astri d'Argento 2017-2019, rispettivamente con Moglie e Marito e Croce Delizia. Ciao a tutti, eccomi dalla cameretta dei miei bambini, ma ormai ci siamo abituati a tutto questo. Allora, Marilyn Agli Occhi Neri è la storia di due marginati con disturbi mentali che sono Stefano Accorsi e Miriam Leone in una performance stupenda. È una storia che nasce dall'incontro, qualche anno fa andai a presentare il mio secondo film in una casa famiglia totalmente gestita da disabili. L'incontro con questi disabili, a me e a Giulia Segar, che è la sceneggiatura del film, ci ha trasmesso la voglia di raccontare questo mondo, di raccontarlo con ironia e contatto. Di non prendere mai in giro queste persone, di stare dalla loro parte, ma non fare un film pietoso, vittimissimo nei confronti di queste persone indubbiamente marginate. Sono persone, come dice Diego nel film, la sofferenza fa paura, i normali sono di più, per cui ci vedono e ci giudicano. In questi centri diurni che abbiamo frequentato nella preparazione del film abbiamo trovato un'umanità incredibile, abbiamo trovato l'assenza di giudizio, abbiamo trovato, io lo dico spesso e poi da questa stanza ancora di più, abbiamo trovato come dei bambini in cui le emozioni sono portate all'ennesima potrotenza, alle emozioni positive, quando arrivano i registi e gli attori là dentro c'era un'emozione, non voglio parlare, fantastica, anche tra virgolette negativa, nel senso ho visto persone arrabbiarsi per cose molto semplici. Per cui abbiamo sentito una materia umana bellissima da raccontare e sono molto felice che l'abbiamo fatto con contatto e anche il film riceve molti messaggi da persone in cura nei centri, ma anche di medici, di operatori, per cui l'abbiamo fatto con garbo, con ironia, è un film dove si ride, si piange, ma nella maniera forse migliore, non si piange per dei dolori, dei drammi e delle malattie, ma si piange perché ci si sente vicini a queste persone perché come dice Clara, forse poi il matto non è così lontano da tutti noi. Buona visione, grazie e viva il cinema!